Allora, buongiorno e buon Natale da Italia Zulu 4, Victor, che è bexierra, vinco quasi sempre, è in quasi che mi prega, e come ho detto, buongiorno e buon Natale, attivazione sotto, e ve l'ha un capriolo, attivazione sotto a direzione Monte Colombo, basso dai due santi, sono in macchina, allo su, pensavo piovesse, ma ovviamente c'è sereno, va bene, 73, ci sentiamo dall'assù, poi c'è un pezzettino a piedi, no, forse è meglio aver preso quattro ruote, perché c'è il ghiaccio qui per terra, direi che è stato di molto meglio. Dunque, appena iniziato il sentiero, che porta a Monte Spiaggi, e a Monte Colombo. Qui giù abbiamo il Passo dei Due Santi, e percorsi brevi, chilometro e mezzo. speriamo che in quota si apra, che così è molto umida. Allora, Italia, tango, Oscar, Italia, tango, Oscar, 0,18. Allora, 7156, 0,18, 0,18, sento. Allora, sono rientrato, sono in compagnia di Gatto Brufolo, e rientro è stato un po' complicato, di problemi topografici, cartografici, comunque, si arriva. Considerazioni sullo Xiegu, il 106. Beh, è un bel giocattolino. Secondo me, per uno che vuole iniziare, io ho iniziato con questo, è sempre un cinese, molo banda a 40 metri, minimalista, non ha neppure il pulsante di accensione, ed è il Kilo November che becca 7 alfa. Secondo me, per uno che vuole iniziare, questo va molto bene. Avevo il sospetto che fosse un divoratore di batterie, ciao amici, un divoratore di batterie, e in realtà è il mio pacco lipo che sta dicendo basta, come la batteria del mio orologio GPS, che sta dicendo basta. Va molto bene, sono restato stupito che quasi la qualità audio è migliore dal microfono parla ascolta che dall'autoparlante interno. Sarà una mia impressione. E' molto molto selettivo. La modulazione e i rapporti che ho ricevuti, ho ricevuto, poi li vedete nel video, non sono proprio da buttare via. Sì, mi piace. Io lo consiglierei proprio a qualcuno che vuole iniziare l'attività barato portatile. Dove scappare? L'attività barato portatile. C'è una cosa che non mi spiego. E' in commercio da più di un anno in Italia. Magari io non l'ho cercato nelle recensioni, nei miei video, ma vedo che è usato da ben poche persone. Finisco di sistemare il video, in modo minimalista, perché a me non perdo tempo nei montaggi, e cerco di finire entro la giornata. E poi, dopo questo brevissimo intervento, ci sono i QSO. Francia 5, Papa, Yankee, Italia. Italia, Zalanda 1, Giuliette, Kilo, Hotel. Perfetto. Italia, Zaluzio, Zalza, Radulma. E, che cosa tu, Giambi, Kilo, va a destra, e fai vai tu, fai vai tu, Alessandro, va? Io, Hotel, Bravo 9, Eico, Floyd, Giulia, Alessandro, buongiorno, a 5 e 9, Buon Natale. Lo scartino, su, Papà, Gio, Capato. Giulio, 1, Hotel, Sino, Eico. Italia, Zalanda 1, San, Novembre, America. Italia, Zalanda 1, San, Novembre, San, Di Alparaggio. Io sono ex, Giulia, mi ha scusami, ma c'è uno sbattore, sapibile a Matteo. Italia, 2, San, Di, Quebec, Portagine. Allora, Italia, 3, Vittor, Alfa, del Danza. Allora, India, Whisky Zero, Golf, Tango, Lima. 5 e 9, QSL. Ciao, ciao. 5 e 9, buon Natale, grazie per questo, ciao. Ciao. Italia, 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 3, Lima, Bravo, Tango. Italia 91, mexico, chilo, papa Italia 8, america, portugale 5,9, 5,9, buona acqua Icappa 6, chilo, 90, chilo Grazie, francia 4, india, chilo, 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 india, chilo, chilo, avanti Italia uniforme 1, novembre, chilo, chilo Mi sa che va bene come radio, il problema è che mangio un sacco di batterie India uniforme 1, papa, bravo, alfa, over Sono venuto in radio giusto per salutarti e augurarti buon Natale Comunque il tuo rapporto è un 5,5, di nuovo a to Allora Roger, Italia uniforme 2, Quebec, Mike Whiskey Il tuo rapporto 5,9 più 20, arrivi benissimo Se me lo consentite io raccolgo la mia roba e vado giù che mi aspetta il pranzo di Natale E c'è un po' di strada da fare a piedi Ancora buon Natale a tutti i colleghi, agli eventuali SWL e anche i fischiatori, va, anche a loro buon Natale No, il manutentore torna, non sono mai stato così contento di trovare il segnavia del CAI